Dico come si fa, com'è possibile abbandonare un essere di questo tipo? Lui è Artù, è il mio cane, lui darebbe la sua vita per me. È impensabile, è inconcepibile, è a tutti gli effetti un membro della famiglia e chiunque abbia un cane sa perfettamente di che cosa parlo e a che cosa mi riferisco. Allora il mio messaggio è questo, come si fa? Come si fa? Non abbandonate, perché abbandonando i vostri cani abbandonate una parte di voi e vi assicuro che ve ne pentireste dopo. Ciao a tutti. Ringrazio Paride Benassai per la sensibilità che ha mostrato verso i nostri amici a quattro zampe. Ti chiedo di aderire anche tu alla campagna Io non abbandono. Fai un video, farlo girare fra i tuoi contatti, nei social, insieme possiamo farcela.